ciao ragazzi un'altra mia un altro mio acquisto questa è una cosa che ho vinto all'asta sempre sui video ma ne vedete poche di cose vinte all'asta se questo fosse fosse questa è l'ultima addirittura ragazzi prendo all'asta perché ragazzi praticamente ci sto rendendo tantissime spese in questo periodo di tempo sto cercando di i soldi di metterli in un altro posto e investirli in un altro posto aspettate un secondo che prendo le forbici che me lo so dimenticare e e e e i 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 860 la batteria interna e poi ragazzi questo è il telefono i 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 con la testa che dovete seguire soltanto una cosa ma no ragazzi se io vi porto un video unboxing del samsung alfa un video unboxing di un iphone che è uscito adesso e prendo per esempio sto qui buttando una cretinata ragazzi voi dovete imparare a anche scegliere le cose ragazzi se vi scrivete e vedete un unboxing ma a voi non piace anche non lo guardate ma se vedete il video di fifa ad esempio 18 per psd che vi piace guardato poi guardate anche i video che porto su xbox one nintendo switch ancora la basetta nella mia postazione per registrare la devo montare ci dovete credere non ho avuto tempo se avrò tempo pomeriggio allora sicuramente uscirà ps3 fifa ultimate team creiamo la squadra con fifa 18 per ps3 sicuro vado a scaricare il pacchetto ho preso i fifa points e tutto perciò ragazzi noi sapete cosa facciamo ci vediamo il ci vediamo dopo con il video di fifa visto che vi piace tantissimo fifa ci vediamo con fifa ciao ragazzi ciao ciao